ti ricordi quando a fiumicino in inverno eravamo soltanto quattro gatti e già che ricordi che nostalgia si stava tanto bene fidati fiumicino adesso è cambiata e poi negli ultimi cinque anni si è trasformata che è cambiato in questi cinque anni che è cambiato che è cambiato il sindaco adesso ditemi che cosa ha fatto montino per questa città fatemi un elenco mi raccomando i lavori sono durati 50 giorni la raccolta differenziata tutto il comune una cosa impensabile negli anni passati contro i civili non c'è speranza e poi c'è la videosorveglianza sia perché abbandonare i fiuti sia per la sicurezza le piste ciclabili che non le vedi da solo cos'altro cerchi e poi non si può interrompere dopo cinque anni il mandato di un sindaco è necessaria la riconferma per proseguire tutto quello che già avviato e non mi sembra poco ma forse hai ragione tu sto montino mica è male ma che alternative ci sono comunque io non capisco come fate a sapere tutte queste cose di montino le sappiamo le sappiamo andiamo dai completiamo l'opera